Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con la seconda parte di Gallia, che dovevamo scappare da questo caso. Ce lo dice pure in questo cassetto, oppure qua, sì ecco. Allora intanto mettiamo questo vaso e ci voglio una seconda parte, ci abbozzo. Ciao. Oggi saluto a Federica Botta, a Monica Botta e a lui mi metto via. Ha finito? Ah vero, no, da capo lo devo fare, devo scappare quando entro. Lo sono dimenticato. Comunque Botta, grazie, 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 grazie. No, non è così. No, non è così. Nel frattempo che stai arrivando... No, non è così. Chiudi, grazie. Vai, vai, vai. Chiudi, spiccati. Ok. Ci volevo poco. Speriamo che non finiamo presto questa cosa che dovevamo scappare da questa casa. Giusto, devo scappare. Poi... Le sue trappole di guarda. Vabbè. Ho saluto interi soldi. Le sue trappole di guarda. Ragazzi, ci vediamo dopo, salto il video. Ok, eccomi qua. Ok, le sue trappole sempre di guarda. Eh, sì. Ok. Ora la posso bloccare? No. No, devo scappare. Ok. Porca miseria, scappa! Chiudi. Ok. Ora dovrei mettersi là. Ok. Vaffanculo. Un, due, tre, tre. Grazie. Buttati qua. Vai! Ok. Vai. Cos'è questo? Io li voglio andare. Buttati su. Ok. Allora abbiamo il vogliere dell'uccello. Perché hanno aggiunto una cosa. Una botola che avete visto quando sono uscita dalla finestra. C'è un pappagallo. Infatti, ci dovrei andare. Aspetta. Cosa c'è qua? Eh, sì. 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 Vabbè. Bella. Ora viene qua. Scegli. Bravo. Aspettiamo. Qua. Dovrebbe salire. Sali dentro casa. Non c'è nessuno. Eh. Brava. Sì, sì, sì. Andiamo a votare l'uccello. Un pappagallo. Un pappagallo. Pier. De set. Sì. Ma va, sì. Sei andata? Sì. E' il video di... Bravo. Che è? Qua? Sì. Allora, sali sopra. Bravo. Che è? Qua? Ok, l'ho previsto. L'ho vista. Giusto? No. Ok. Dobbiamo andare dall'uccello. Che è qua. In realtà si va da là, però... Questo è il codice della porta. Che ora... Che poi metteremo perché... Dov'è la porta? Chiuditi. Ok. Allora, l'uccello che vi parlavo è questo. Vabbè, intanto non può venire qua. Spero che non viene qua. Ma per te può venire qua. Ma per te può venire qua? Vabbè, sembra che qua... No! Ah, ci può entrare! Non lo sapevo. Giuro. Non lo sapevo. Giuro. Giallo. Giallo qua. Qua non scapperò mai questa cosa. Lo dirò subito. Sciugli. Vi... Nasconditi. Abbassati. Bravo. Bravo. Dov'è? Si, ecco. Porca miseria. Mori male. Ok. Aspetta, io perché sono andato qua? Per farlo male giusto Corri, corri, corri Pizzicata Ok Corri subito, sobra Corri, corri, corri Ok Non è visto E vedete qua Non è visto Ok Io spero che non è visto Sì Infatti forse sto scelendo da qua Allora Faccio l'attivare Va la E io vado la Si può fare? Certo Già arrivo Ok Ok Vai Pizzicata Vai Vai giù Vai giù Ok Tanto per vedere cosa c'è Ok Ora viene qua Ecco Ora per un po' Dovrei chiudere il video Però Ragazzi devo sentire dopo Ci sentiremo dopo Domani Ci sentiremo Domani O dopo domani Non lo so raga Perché Devo girare un altro video Quindi Non so se farò la parte 3 Ciao a tutti Ci vediamo domani Ci vediamo domani Con un nuovissimo video E io Vi dirò questo Quando scapperò mai da questa casa Ciao